Uno scenario che in molti credevano o meglio speravano di non rivedere più e invece in piena estate, diversamente dalla precedente, quella senza vaccini, tornano ad aprirsi i reparti covid che erano stati chiusi da poco più di un mese, ad occuparli per lo più pazienti giovani e non vaccinati. Con il numero di positivi in crescita costante sono tornati a crescere dunque anche i ricoveri. Per l'Asla Centro il primo reparto a riaprire è stato quello di Ponte Anniccheri, poi è stata la volta di Prato, a seguire Empoli e martedì sarà la volta di Santa Maria Nuova. Se da un lato i medici assicurano che l'aumento dei contagi è per ora sotto controllo, dall'altro gli ospedali sono in preallarme per il numero dei ricoveri, cifra che anche il parametro per il cambio di colore della regione con maggiori limitazioni. Dai medici arriva nuovamente l'appello a effettuare il vaccino per evitare gravi conseguenze e ricoveri che andrebbero ad appesantire il carico negli ospedali a danno di altre patologie. Intanto sono in via di miglioramento le condizioni della bimba di due mesi e mezzo di Carrara che si trova ricoverata al Meyer in rianimazione dopo essere stata contagiata dai genitori che erano in attesa della prima dose di vaccino. La piccola era stata trasferita per precauzione da massa a Firenze perché nata prematura è dunque più fragile anche se fortunatamente le sue condizioni non sarebbero preoccupanti.